Siamo con il Presidente dell'Avis Comunale Città di Agropoli, Rosario Capozzolo, per dire ai telespettatori di Cilento Channel di un'importante iniziativa che si terrà domenica 24 aprile per quanto riguarda le visite di prevenzione insieme a Rotary Club Agropoli. Allora, Presidente, ci puoi spiegare nel dettaglio che cosa accadrà domenica 24 aprile? Noi come sempre facciamo queste giornate di prevenzione in collaborazione spesso con i Rotary Club che sono attivi, sono molto attivi e organizzano sempre. Io cerco di dare una mano, mi metto sempre a disposizione per tutto, per cui il 24 avremo nella nostra sede qui in Viale Lombardia questa giornata di prevenzione urologica. con anche visite nutrizioniste. È stata pensata, organizzata dai Rotary. Io metto a disposizione la mia sede e cerco di dare una mano anche a riperire un po' le persone che ne hanno bisogno. Anche a noi capita molte volte delle persone che, dalle analisi che poi escono fuori dalla donazione, di avere bisogno di qualche cosa. Noi cerchiamo di dare anche questo gratis alle persone. Come fare per venire a fare una visita di prevenzione urologica con il dottor Benincasa? Ecco, ricordiamo anche che ci sarà Benincasa qui presso la sede dell'Avis. Bisogna prenotare? C'è un numero specifico dove chiamare? Sì, le prenotazioni le accettiamo noi qui come sede. Il nostro numero è pubblicizzato anche sulle Leucantine. C'è il numero fisso e il numero del cellulare della sede dove potete telefonare e prenotarvi la visita. Spero che ci sia un bel numero per cui affrettatevi perché poi purtroppo le visite urologiche sono abbastanza lunghe per cui non è che nell'arco della giornata se ne possano fare poi tante. Una importante iniziativa per dare una risposta al territorio. Sì, ancora una volta grazie agli amici dell'Avis con i quali lavoriamo sulla prevenzione già da parecchio tempo. Anche questa domenica riusciremo a mettere in campo ben due attività, cioè quella sia della prevenzione per i problemi dell'obesità e dell'urologo che si sono come sempre messi a disposizione per starci vicino. Con i Rotari quest'anno abbiamo continuato, nonostante qualche difficoltà dovute ancora a problemi pandemici, l'attività delle Domeniche della Salute. Devo dire assolutamente grazie innanzitutto al dottore Emilillo, vicepresidente del club, che come sempre ha coordinato tutte le attività dei nostri amici medici che dedicano il loro tempo all'attività rotariana. E poi agli amici dell'Avis che mettono a disposizione la loro struttura per far sì che le persone vengano accolte nel migliore dei modi, con delle visite accurate e con tutta la strumentazione del caso. Ripeto, come sempre visite gratuite a disposizione della cittadinanza. Quest'anno in particolare vorrei ricordare che abbiamo effettuato in più giornate una prevenzione importante sulle problematiche diabetologiche, facendo tra Agropoli, Capaccio e Albanella ben tre domeniche, nelle quali abbiamo potuto far avvicinare le persone e visitarne quasi 400 persone. Quindi per noi è stato un successo molto molto grande e devo dire, ripeto, la sinergia come sempre fa bene. Fa bene al territorio, fa bene alle associazioni che insieme possono dare dei segnali importanti.